Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua con l'ultima partita del torneo Novi La prima partita l'abbiamo persa, la seconda l'abbiamo vinta E oggi è quella decisiva contro Francesco Di Mauro Quindi vediamo come andrà E sì, oggi tra l'altro ci giochiamo il primo posto Contro Francesco Di Mauro Che ha deciso di non giocare con noi Bensì di giocare contro di noi Quindi andiamo a sentire anche quali sono le sue impressioni Qualora ci fosse un rigore o ci fosse qualcuno che può riprendere al posto mio Io ho già detto che voglio scendere in campo E purgare Francesco Così come dovrai fare tu che c'è il titolo attualmente di capocannoniere Ma passiamo prima alla palla a fre Sì, vabbè, per quanto si è visto fino ad ora Comunque con la nostra squadra che ha fatto 6 punti Quindi due vittorie nelle due partite Mi sta dando anche ragione la scelta di aver giocato in una squadra diversa dalla vostra Oggi però chiaramente è molto difficile Anche dopo il vostro ultimo successo Ho un po' di paura Però noi abbiamo vattuto l'Antumas Quindi vediamo Per me sarà una partita molto combattuta e molto equilibrata Ne parliamo dopo la partita Io sono sicuro che faremo bene Tra l'altro oggi abbiamo aggiunto l'ultimo giocatore che prenderà parte a questa rosa Ivan Pozzi il maestro Quindi abbiamo completato il nostro slot di giocatori C'è tanto hype anche attorno a lui che sappiamo essere un mostro Secondo il mio punto di vista, Fabio? Sì, sicuramente è un giocatore molto importante Mancava quel tassello in più E secondo me adesso siamo pronti E dobbiamo dimostrarlo già da oggi Vincendo questa partita Null'altro da dire Se non andiamo all'interno degli spogliatoi Non quelli di Fred Bensì i nostri Per curare ogni aspetto nella maniera migliore possibile E purgare Francesco Io voglio chiedere una cosa a Fabio Innanzitutto Mi ha già detto prima che non tirerebbe un rigore Quanti gol ti aspetti di fare oggi? A me Intanto spero di segnare di vincere Però non lo so Uno o due gol te li vorrei fare Ecco c'è all'interno del spogliatoio Eccolo Guidone Com'è Guido? Grazie Sei carico Vieni, vieni, vieni Stupendo, dai C'è Giuliano Eccolo il maestro Il nostro ultimo acquisto Di qualcosa per tutti i tuoi fan che ti seguono Bello, bello Direi che ci siamo tutti Se non a Bracaraya L'unico che manca Allora, che c'è sto silenzio ragazzi? È la concentrazione della partita Tra l'altro Nick ci offre il post serato Mi ha lavorato il minimo Mi ha lavorato il minimo E torna l'altro ragazzi Poi mi è normale che c'è mister Che ci salte una partita Tra l'altro No, ma alla fine Vi l'avete spostato Sì, l'abbiamo spostato solo per Beppe Ho detto guarda Se non mi spost... No, si scherzate Il torneo hanno spostato Hanno spostato il torneo Non è che dice Non rompiamo il cazzo l'arbitro Perché mio zio è la cosa Più bella che potessi sentire Nella mia vita Io spero di non sbagliarmi E dire oh zio Oh zio Grazie Grazie E allora eccoci finalmente In cabina di regia In fase di telecronaca Per raccontarvi Quello che sarà L'ultimo incontro di qualificazione Di questo torneo nuovi Che vedrà sfidarsi FDM Team Italia Faster Ma soprattutto vedrà sfidarsi Fabio Di Mauro E Francesco Di Mauro La sfida tra due fratelli Intanto il fischio Del direttore di gara Sanciro è l'apertura Di questo match Sì è sicuramente una bella partita Sia perché appunto Ci sfidiamo io e Fabio Entrambi abbiamo i nostri obiettivi Cercare per quanto mi riguarda Di evitare che lui segni Lui sicuramente Vorrà farmi gol Ma è chiaramente una partita Molto bella per le due squadre Che quasi si equivalgono C'è un primo posto in palio Vediamo chi lo raggiungerà Eh sì Ricordiamo anche quali sono stati I risultati Fra le prime partite Voi avete ottenuto Ben sei punti Nelle prime due Noi invece solamente tre Causa anche lo scivolone iniziale Quindi oggi sarebbe importantissimo Vincere per cercare di centrare Il primo posto Qualora non ci riuscissimo Otterremo il terzo posto Che complicherebbe Maledettamente Le cose In ottica Quarti di finale Ma adesso vediamo anche Qual è la fisiologia Della squadra Dell'FDM Team in campo Confermato Baroni in porta Ultimo Pozzi Laterale destro Fabio Di Mauro Laterale sinistro Vediamo Nicola Scalaia E come pv Rena Gerlesco E arriva ora Il calcio d'inizio Affidato proprio al numero 88 Pietro Ardizzoni Dunque Manuel Veronesi Che va subito da Ardizzoni Il mancino Neutralizzato subito da Baroni Ma ora è già a possesso Per l'FDM Team Con questo fallo laterale Con Renat Che va da Caraia Da questi a Fabio Che cerca lo spazio Per il sinistro Respinge Francesco Anch'esso col piede sinistro A neutralizzare Il tentativo Del numero 77 Che ora riceve nuovamente La sfera Dialoga con Gerlesco Che cerca una soluzione Poi In mezzo al traffico Decide di Regalare la sfera Ancora a Fabio Che torna sempre dal numero 11 Che cerca Ora di slalomeggiare In mezzo al traffico Da questi a Bracaraia Davanti a sé a Fabio Decide di andare da solo Apparentemente a Bracaraia Cerca lo spazio per il sinistro Chiuso Poi prolunga per Gerlesco Ancora una volta Juen Monumentale In fase di ripiegamento difensivo Ancora il numero 10 Che prova ad avanzare Cerca spazio Cerca di illuminare Cerca di fare anche Con la collaborazione di Fabio Infastilito poi da Veronesi Decide di tornare indietro E va da Ivan Pozzi Da questi a Caraia Aggredito proprio da Pier Federici Se ne va fuori Elegantemente a Bracaraia Che poi Mette in moto Fabio Lo stop Non buono Capisce tutto Veronesi Che prova a ribaltare L'azione poi contenuto Sempre dal 77 Non ha spazio Veronesi Attenzione adesso Questo 2 contro 2 Vinto poi L'Italia Faster Dopo un rimpallo Ma adesso seguiamo ancora Francesco Di Mauro Che va a innescare I propri ardizioni Dentro Veronesi Che va di prima A girare bene questo pallone In direzione Pier Federici Che punta in 1 contro 1 Ivan Pozzi Pier Federici cerca il sinistro Deviato Si ci ha provato Pier Federici Che come sempre Cerca sempre di andare su Mancino Ha sicuramente un ottimo piede Pozzi lascia lo spazio per calciare Però poi va a chiudere La conclusione E il calcio d'angolo Per Ida Faster Adesso il calcio d'angolo Giava tutto la Veronesi Che va di Pier Federici Da questi ardizioni Ancora il 22 dunque Cerca lo spazio Cerca di slalomeggiare Chiuso Da Pozzi Che poi Allontana la sfera E leggerisce L'intervento Le finte proprio Del 9 Che va poi dentro Proprio da Orlando Che vorrebbe lo scarico Non lo trova Decide di fare dunque Tutto da solo Ancora Orlando Poi col tacco Ardizioni capisce tutto Dalla parte opposta C'è già Juain che cerca di Andare di prima Capisce tutto Dalla parte opposta anche Gerlesco Che cerca lo spazio Per il sinistro Gerlesco E ora Gerlesco Va proprio da Orlando Attaccato Decide di tornare lì indietro E va da Ivan Pozzi Che cerca il passaggio di prima Direzionato proprio Gerlesco La palla però Viene sporcata Da un giocatore In camiseta blanca Ancora Ivan Pozzi Che va dentro da Orlando Di prima per Gerlesco Che cerca di vincere il duello E lo vince Solo momentaneamente Con Pier Federici Ma ha il possesso ancora una volta Dell'FDM Team Con Calaia Che va da Pozzi Si allarga Gerlesco Pozzi dunque va al centro Contenuto ancora una volta Da Pier Federici Pier Federici Che duella con Caputo E ne è entrato Giuliano Sfida tra 22 e 30 La vince momentaneamente Il numero 22 Che poi torna lì indietro Chiama in causa Gioin Che con Mancino Va a cercare E a trovare anche Ardizzoni Che mette giù Un pallone complicato Poi cerca il dribbling Su De Rosa Ardizzoni Buono lo squillo Anche da parte del numero 88 Pit Baroni Ci mette le mani E concede La rimessa in gioco In favore dell'Italia Faster Rimessa fidata A propri piedi di Veronesi Che va dentro Ancora una volta da Ardizzoni Ancora una volta Però molto bene Caputo Adesso Francesco Pensa direttamente al tiro Sventato Ancora una volta da Caputo Attenzione che la porta è scoperta Può ripartire Ma ha perso l'attimo Giuliano Caputo Che può ora ripartire Cerca Abra Calaia Lo trova Calaia cerca di rendergli Il pallone di ritorno Troppo lungo Esce Francesco Di Mauro Che rinnesca Momentaneamente Namu Manuel Veronesi Che punta l'uno contro l'Urlando Veronesi La palla carezza il palo Gli fa la barba Ma si perde sul fondo Dunque al 21 Prova a slalomeggiare Orlando Cerca lo spazio per il sinistro Lo trova Decide di fare tutto da solo Orlando Poi scarica a sinistra Da De Rosa Che torna a destra Dove trova Abra Calaia Lo sto ponentato Abra Calaia Il destro Disinnescato Dalla spaccata di Francesco Di Mauro Ma attenzione che non c'è un attimo di respiro Dalla parte opposta Stiamo già col 69 O meglio col 97 Tommaso Zardi Che per poco non trova la rete Intanto c'è ora il cambio Entra Fabio Di Mauro Esce Nicola Scalaia Bella partita ora Ma il punteggio Dice ancora 0 a 0 E adesso proprio Francesco Di Mauro Sempre per Ribe Da questi a Zardi Che prova ad avanzare Ancora il 97 Cerca il centro del campo La palla rimbalza male Lo capisce Caputo Che si va a riprendere il possesso Poi Fabio Di Mauro Non esce su Ribe Che decide di tornare nuovamente all'indietro Chiamando in causa Catozzo Ancora Ribe Cerca ora una soluzione Prova la verticale Jeremy Abizzari Passa su Orlando Attenzione ancora Abizzari Il sinistro Pit traversa E adesso altra occasione Incredibile per l'Italia faster Qui non l'aveva letta Benissimo Orlando Forse è la prima lettura Non felice Bizzari per poco Non riesce a trovare il gol Bellissima però La parata di Pit Che tocca quel tanto che basta Per spedire la palla Sulla traversa E intanto Catozzo Va da Pier Federici Che non inquadra Lo specchio della porta Fabio Di Mauro Di nuovo entrato Al posto Di Guido De Rosa Poi Abra Calaia Che va a sinistra Proprio da Ivan Pozzi Da questi a Gerlesco Uno contro uno Non felice in questo caso Perena Gerlesco Capisce tutto Ribe Che va al destro Palla alta Sopra la traversa Guido De Rosa Si propone a Gerlesco Guido De Rosa Decide di andare ancora una volta Da Abra Calaia Che cerca il passaggio Illuminante di prima In zona luce Per Gerlesco Ma capisce tutto Ancora una volta La retroguardia avversaria Dunque Namu Cerca lo spazio Per il destro Namu Incrocio dei pali Da parte di Manuel Veronesi Che fa tremare la traversa E fa tremare anche L'FDM team E ora Pier Federici Vuole palla ardizione Dall'altra parte La vorrebbe anche Veronesi Pier Federici Va da Veronesi Che aggancia la sfera E poi Pit E poi attenzione Che non è finita Diventa praticamente Un tentativo di allontanamento Il destro di Juane Ancora più che Qualcosa di pericoloso Per l'FDM team Poco importa Intanto Sarà calcio d'angolo Perché l'ultimo tocco È stato di un giocatore In maglia nera Abbiamo visto già Un altro pericolo Creato sempre da Namu Due pericoli Nel giro di veramente Pochi minuti Creati da lui Prima la traversa Poi quest'altra conclusione Si presenta sicuramente Uno dei giocatori più pericolosi Per l'Italia Paster Intanto si è portato a casa Un ottimo calcio di punizione Da una mattonella insidiosa A Bracaraia Conta i passi Il direttore di gara Pronto ad andare A Bracaraia Il destro Rispinto proprio da Pier Federici Dunque Pozzi Può ripartire sempre Con la collaborazione di Abracaraia Che punta in uno contro uno Pier Federici Cerca di farlo fuori Pier Federici si mette avanti Di corpo di esperienza E si porta a casa anche Un prezioso calcio di punizione Ottimo Il lavoro di ripiegamento difensivo Da parte del 22 Che sta facendo grandi cose là dietro Anche se ha peccato Forse fino ad ora Avanti Ma seguiamo ancora Pier Federici Che sbaglia Punto di impostazione Contenuto da Gerlesco Decide poi di allargare a destra Dove trova Veronesi Che punta in uno contro uno Ivan Pozzi Ancora Veronesi Buona la conduzione Da parte del 10 Poi Bravo Ivan Pozzi A riuscire a neutralizzare L'azione Poi Calaia Coltacco Enescare Rena Gerlesco Esce Pier Federici Lo fa fuori Seco l'11 Gerlesco va a servire Guido De Rosa E arriva il vantaggio Da parte dell'FDM team Siglato Guido De Rosa Che esulta l'Ambapè Ed è 1-0 Sì sicuramente Ha fatto una buona azione Quella FDM Usita bene dal basso C'erano molti spazi In questo caso Per la squadra nera Li ha trovati tutti E anche quelli in mezzo alle mie gambe Sicuramente Un tiro insidioso Quello da parte di Guido Io non perfetto Perché decido di andare giù Sbaglio Secondo me Non copro benissimo lo spazio Però Un gol che comunque Per quanto si è visto Ci potrebbe pure stare Anche se L'Italia Faster Sta facendo un'ottima partita A Pozzi Tornato a fare l'ultimo Laterale sinistro Orlando Uno dei più positivi Di questo primo tempo Va ora proprio da Bracalaia Che cerca lo spazio per il destro Viene contenuto da Ordizioni Poi si porta a casa Intelligentemente Questo fallo laterale Nick Che col tacco Nel piede destro Fa sbattere la sfera Sullo stinco di Ardizioni Adesso Seguiamo proprio Orlando Su calcio d'angolo Gioca la sfera al centro Caputo E ancora ora Caputo Che sfida Proprio Ardizioni Caputo cerca il centro Poi pensa per un attimo Alla conclusione Che ritarda La vuole ora Veronesi Gliela nega Riparte Sprint al numero 10 Pozzi molto bene una volta Poi il fallo Di Orlando Al limite dell'aria Provvidenziale Adesso anche l'abbraccio Bello il segno di fair play In fase più di marcatura Pozzi E Caputo Adesso il destro Proprio di Manuel Veronesi Respinto da Pit Ma non è finita Seguiamo Ribello Che va a destra Dove c'è Juen O meglio Pier Federici Che va dentro da Ardizioni Il suo tiro diventa Praticamente un assist Finisce ora Il primo tempo Che si conclude Sul punteggio di 1-0 Per l'FDM Team Una partita bellissima Come ci aspettavamo Ma adesso C'è ancora tutta una ripresa Da giocare Bello quel gol sotto le gambe Stai giocando bene te Meglio di te Grande Renat Grandi raga Grandi raga Stiamo sul pezzo È partita vera Bravo Fabio Bravo 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 Nick Vogliamo un cazzo Fadi Purgare Frea Ivan Nick Fabio Sì ancora Stiamo andando a giocare E' male C'è proprio male E' male No Sì sì No Eccoci finalmente Tornati in live Per raccontarvi la storia Di questo secondo tempo E per viverlo assieme In questo momento L'FDM Team È primo in classifica Nel proprio girone Grazie a questa vittoria Vediamo se riuscirà A mantenerla Anche nell'arco Di questi secondi 25 minuti di gioco Che iniziano ora Con Abra Calaia Che scarica la sfera All'indietro per Pozzi Conseguentemente Guido De Rosa Che cerca il pertugio giusto Scarica Ora solo Per Fabio Di Mauro Ma Bizzarri Si va a riprendere la sfera Se la va a riprendere Anche il numero 77 Chissà Cosa ci dovremmo aspettare In questo secondo tempo Chiamata una reazione D'Italia faster Ma adesso si chiama Abra Calaia Che avanza Buono il tocco Ed esterno per Fabio Dialogano benissimo Il 10 e il 77 Chiuso Abra Calaia Proprio da Juen Che si rifugia In falo laterale Può controllare Baroni Che va lunghissimo Ora proprio da Calaia Che duella Battaglia con Juen La solata di Calaia Direzionata a Fabio Non è prolifica Perché Juen capisce tutto E può trasformare L'azione alla difensiva Offensiva Juen che va da Zardi Dentro Guido De Rosa Para Poi ancora Zardi Che parata Da parte di Pit Che salva La sfera sulla linea Ma adesso attenzione Abra Calaia Che cerca un'altra magia Catozzo lo contiene Ma Abra Calaia Si va a riprendere la sfera Attenzione che non è finita Il mago a larga destra Dove c'è Guido De Rosa Da questi a Fabio Di Mauro In uno contro uno Con Juen Lo sfida Il numero 77 Che fa fuori Bizzarri Ma non Juen Che ritornano sulla sfera Poi con proprietà Si vanno a riprendere il pallone Il 9 e il 5 Prova Adesso ad avanzare Proprio Bizzarri Tanta confusione Arriva Pit A cercare di dare Una parvenza di ordine Ancora De Rosa Che cerca di contenere Bizzarri Che poi decide Di tornare lì indietro E di rimpostare Con l'aiuto proprio di Ribello Che ora Con calma Cerca La soluzione in Zardi Che prova a girarsi Zardi contro Pozzi Zardi Contenuto Ancora una volta Dal numero 9 Che per ora sta vincendo la sfida Vediamo Francesco Di Mauro Che va lunghissimo Ancora una volta da Zardi Pozzi su di lui Ancora Zardi Il destro E arriva il pareggio Dell'Italia Faster Pareggio siglato proprio Tommaso Zardi Che con la 97 Fa La rete dell'1-1 Forse avrebbe potuto fare Qualcosina in più Pozzi Avevano detto Era stato perfetto Fino a pochi attimi prima Riesco a dare direttamente sui piedi Lui bravo comunque A staccarsi da Pozzi A girarsi E poi A scaraventare In porta Questo destro potente Poteroso Era 1-1 Adesso intanto La magia Di Rena Gerlesco Che mette a sedere due avversari E poi Va a prendersi questo fallo Ma adesso seguiamo proprio Gerlesco il destro Rispinto Proprio da Ribello Ma attenzione alla ripartenza Di Zardi Attenzione Zardi Contro Pit Tocca ancora una volta Il numero 12 Colla ma non a destra Adesso Veronesi Vuole la palla Pier Federici Lo accontenta il 10 Dunque il 22 Prova a girarsi in mezzo al traffico Orlando si va a riprendere la sfera E poi Rena Gerlesco Ancora una volta Con la sua eleganza Con la sua grazia Prova ad avanzare Il numero 11 Che cerca la giocata Capisce tutto Un galvanizzato Zardi Autore anche Della rete del pareggio Scarica adesso La sfera all'indietro Per Pier Federici Che prova ad avanzare Ancora il numero 22 Allarga a sinistra Dove trova ancora una volta Zardi Adesso la battaglia con Orlando Cerca una terza soluzione La trova larga Le finite del numero 22 Che solo all'indietro Bene per Veronesi Pozzi Il numero 10 Che punta il 4 La sfida a Calaia Ribello Si accende Poi 10 Decide di andare ancora una volta A destra Dove trova Orlando Che cerca l'inserimento Per Gerlesco Non trova zona luce Decide di tornare dal 21 Che scarica Al ne acquisto Ivan Pozzi Il maestro Con la 9 Da questa è Abra Calaia Che torna ancora una volta Da Ivan Pozzi L'ultimo La certezza del balza Che serpentina Di Pozzi E poi il sinistro Che squillo Francesco Di Mauro Parama Attenzione che non è finita Si va a riprendere la palla Ivan Pozzi Che gioca al centro Per Gerlesco La respinta Della retroguardia avversaria Ma ancora Pozzi A giocare la sfera Per Abra Calaia Che spegne questo pallone Perde magari Il tempo di gioco necessario Per ritagliarsi alla conclusione Ma vediamo se ora riuscirà Ad ottenerlo Abra Calaia Poi decide di tornare indietro Da Gerlesco Davanti a sé Aribello Gerlesco Francesco col piede Una parata Maledettamente difficile Sì Due tiri anche abbastanza complicati Nel gioco di poco tempo Questo secondo me Era un po' più difficile Perché comunque È un tiro che forse Passa anche mezzo alle gambe Non è particolarmente potente Però abbastanza angolato Non era facilissima Secondo me questa parata Adesso Ottimo Intanto il lavoro di Gerlesco Che si deve alzare Lo fa solo ora Dunque Calaia Che va da Caputo Davanti a sé Ardizzoni Gestisce la palla con la sola Il numero 30 Poi decide di donarla Ancora una volta Abra Calaia Il pallone morbido Errore in comproprietà Qui tra il 10 e l'11 Abra Calaia Pallone così e così Rena Gerlesco Anche adesso Attenzione Altro errore in difesa Namu si divora La rete del potenziale 2-1 Troppo morbido Davanti al portiere Ha cercato il gol bello Ma lì avrebbe potuto fare Sicuramente qualcosa di più Il fantasista dell'Italia faster Dalla parte opposta Ci abbiamo già Abra Calaia Che cerca di giocare Questo pallone al centro Murato Dalla retroguarda avversaria Francesco Di Mauro Fa ripartire subito Prontamente i suoi A cercare Pier Federici Bravissimo Rena Gerlesco Per quanto l'Italia faster Sia già passata Almeno come seconda Nel caso peggiore possibile Vuole ugualmente Performare Contro la squadra FDMT Ma adesso Orlando Si va a riprendere Un altro pallone su mano Il Veronesi Può ripartire Con la collaborazione Di Abra Calaia Attenzione Calaia Con la punta Francesco Con la manona sinistra E poi Orlando Si è avventato sulla sfera Prima di lui Però c'è sempre il 24 In camisetta rosa Che fa ripartire ancora Veronesi Da questi al 22 Pier Federici Sfida Corena Gerlesco Che dice di qui Non si passa E adesso Catozzo Che cerca La palla direzionata Per Federici Che va all'uno contro uno Con Pozzi Poi cerca il passaggio In orizzontale Che non trova Dunque Ardizzoni Cerca di ritagliarsi Lo spazio per il sinistro Pit para E poi la palla finisce Sui piedi di Orlando Che cerca la finta su Catozzo Disorientare il 69 E la trova ora La finta Che gli permette di costruirsi Questo spazio necessario Per impostare Dunque Gerlesco Ancora Orlando Da questi a Fabio Di Mauro Che può ripartire Cedendo alla sfera Ancora una volta a Pozzi Da questi a Orlando Dentro Fabio Juen A immolarsi Sul tentativo di Fabio E poi Il passaggio di Francesco Sul pressing Di Fabio Di Mauro Se ne esce molto bene Il portiere dell'Italia Faster Ma adesso Dalla partoposta Pit Vuole ripartire Lo fa con la collaborazione Di Pozzi Da questi a Gerlesco Il tocco di prima Cercare Orlando Ma capisce tutto Il 22 della squadra opposta Dunque Catozzo Buono Catozzo Il sinistro Aveva messo a sedere Non uno qualunque Bensì Ivan Pozzi Poi non ha centrato Però lo specchio della porta E seguiamo Ancora una volta Uno dei giocatori Che ha giocato meglio Per l'Italia Faster Ovvero il numero 88 Stiamo parlando di Pietro Ardizzoni Che ora però Non riesce a indirizzare Questo pallone Per un compagno Ma si va a riprendere La sfera ancora una volta Ardizzoni Che può ripartire Ardizzoni Il mancino Il mancino Pitt a dirgli di no Ma come dicevamo poche anzi Sicuramente uno dei giocatori Più svegli Più pronti E anche con una fisicità Più imponente Per l'Italia Faster Dunque Una squadra molto fisica Che da filo da torgere Belenoso E poi Francesco a sua volta Cerca il gol Beffa Ma è ben appostato Ivan Pozzi Che riparte Con la collaborazione di Gerlesco Che spegne un pallone Non facile da controllare Su questo campo Dunque Pozzi La verticale Direzionata Bracalaia L'anticipo di Ribello Pulito sul pallone Può far ripartire L'Italia Faster Attenzione ancora Ribello Con la punta Pitt a dirgli di no Attenzione Due contro uno Calaia prolunga Per Rena Gerlesco Intanto è ritornato Ribello Gerlesco Si va a conquistare Questo fallo Ottima la giocata Del 2006 Parte ora Bracalaia Alta Altissima E adesso Pozzi Scucchiaia Direzione a Bracalaia Che mette giù Un altro pallone Punta in uno contro Uno ardizioni Cerca lo spazio Per il sinistro Non lo trova Dunque Bracalaia Ancora una volta Col destro E ora Si avvicina sensibilmente All'obiettivo grosso A Bracalaia Dunque Calaia Ribate il possesso Vada Orlando A destra E' aperto Tutto Fabio Che è entrato ora Al posto di Rena Gerlesco Fabio che va da Pozzi Suola bene all'indietro Per Calaia Che cerca di tornare Sempre dal maestro Capisce tutto La retroguardia avversaria Poi Per Federici Orlando se lo mangia E si va a riprendere Anche un altro possesso Dunque Calaia Che cerca l'uno contro uno Con Ribe Poi cerca il contatto Lo trova E si porta a casa Anche un altro calcio Di punizione Polemico qui Ribe Che avrebbe voluto La non punizione Di fatto Perché si è lasciato Troppo andare a sudire Il mago A Bracalaia Punizione che però C'è stata Adesso Calaia Va dentro da Fabio La parata Con la spalla Da parte di Francesco Di Mauro Siamo al minuto 24 Un minuto più recupero Con Francesco Che va lunghissimo Orlando Che alleggerisce la pressione Con la collaborazione Di Fabio Di Mauro Ancora Orlando Gestisce la sfera Sull'attacco di Pier Federici Dunque ancora Fabio Che scarica A sinistra Dove c'è Orlando Da questi A Bracalaia Che torna sempre dal 21 Dentro per Fabio Di Mauro E arriva il gol Del pareggio A un minuto dalla fine A 30 secondi Dal recupero L'azione è incredibile Quella stabilita Da Orlando Fabio Calaia L'euro goal Del numero 77 Che fa sembrare facile Un gol che è facile Non è È 2-2 È assalto al 3-2 In questi secondi finali Peccato Perché l'occasione Secondo me In questo caso Non è stata sfruttata Benissimo da noi Quanto meno difensivamente E per poco Non ci arriva Attordizioni Adesso invece Per poco Non trova il gol Manu Veronesi Molto bravo Ancora una volta Pitt Uno degli MVP Per l'FDM team Assieme a Orlando Poi ottima Comunque anche la prestazione Di Fabio Che è riuscito a trovare Un gol che pesa Come un macigno Adesso Fabio Che va da Calaia Contenuto ancora una volta Da Ribello L'ultimo tocco È proprio del numero 4 Sarà calcio d'angolo Una delle ultime chance Da parte dell'FDM Official team Per cercare la rete Del 3-2 Calaia Che va all'indietro Troppo leggero Capisce tutto Pier Federici Grazie a questo pareggio L'Italia faster Raggiungerebbe il primo posto Per l'FDM team Invece solamente il terzo Quindi la faccenda Si complica Per gli eventuali quarti Ma adesso secondo Pozzi Che verticalizza bene Per Calaia Arriva Fabio Sostegno a sinistra Calaia decide Di fare tutto da solo Ardizioni lo contiene Si va a riprendere il possesso Gli attacchi di Abra Calaia Che sono prolifici Che si va a riprendere la sfera Poi suola non bene E si trascina la palla fuori E il direttore di gara Fischia ora Il punteggio dice FDM team 2 Italia faster 2 Si conclude in pareggio Dunque la terza giornata Di questo torneo novi Terza giornata di qualificazione Adesso ci saranno i quarti E vedremo quale sorte Aspetterà la squadra Di Fabio e compagni Noi ci possiamo catapultare All'interno dell'intervista E sentiamo quelle che sono Le impressioni dei protagonisti Di questa sfida Allora ragazzi FDM team Oggi Si è messo d'accordo Perché il fratello Che è proprio qua Ci ha fatto far gol al novantesimo Guarda caso Dal fratello Che è capo cannoniere Vabbè Io l'ho detto Spiegaci Spiegaci A noi il parigi Effettivamente Serviva Bastava quello Non ci serviva a vincere Effettivamente Quindi Mi stai confermando Che gli hai fatto segnare Ma è mio fratello Scusa Cioè li voglio bene Ci sono 100 euro in palio Capito Perché a sto punto Gli facciamo vincere L'NVP Ho continuito anch'io L'NVP E poi se tu vinci Il portiere Dai 10 euro a lui Bene ragazzi Un saluto Da FDM team Che ci sono messi d'accordo Per segnare al novantesimo Forza Italia Fast Eccoci ragazzi Dunque nel post partita Dell'ultimo turno Di qualificazione Finito per 2 a 2 Fabio ha trovato la rete del pareggio Proprio nell'extra time Tante le parate di Francesco Ci aspettavamo Magari una partita Un po' diversa Soprattutto a fronte Del vantaggio del primo tempo Invece Cosa è mancato Fabio E cosa è mancato Poi a Frey Partiamo da Fabio No io me l'aspettavo Così Una partita difficile Sicuramente Se il pareggio va Magli a loro che a noi Vabbè dai A me non li ho segnato È soddisfazione Tra l'altro Mi dicevano i compagni di squadra Prima Off camera Che l'unico obiettivo di Frey Ancora più che perdere Era non prendere gol da te E quindi ci sei riuscito A spugnarlo All'allungare Anche nella classifica Capocannonieri Quota 8 E invece Frey Come l'hai vista dal campo Tante le tue parate Bella la sfida Anche con Pete Baroni Che breve andremo a sentire Cosa è mancato alla tua squadra Cosa è mancato a noi Come è stato in generale E vederla da dentro al campo Noi comunque abbiamo fatto Una bella partita Secondo me Peccato perché secondo me I nostri due gol Erano abbastanza evitabili Forse anche più di quelli Che hanno preso l'oro Peccato perché Potevamo anche vincere Secondo me questa partita Quindi dici Che erano evitabili Sì allora Sicuramente sul primo Potevo far meglio anch'io Però sia sul primo Che sul secondo Mancava proprio la pressione Sull'uomo Cioè il primo comunque Guido arriva a calciare Molto bene davanti a me E anche più possibilità Di essere lucido E freddo davanti alla porta Mancava in generale E la marcatura Su entrambi col secondo me Invece una domanda Che volevo farti è Visto da dentro al campo Qual è il giocatore Che ti ha impressionato Di più della nostra squadra E chi è il giocatore Invece da cui ti sareste Aspettato qualcosina in più Onestamente A me e Reina Ti piace molto Cioè oggi Particolarmente ho la sentazione Che ogni volta che avessi Il pallone Potevamo effettivamente Creare un pericolo E molto bravo tecnicamente Se lo facciamo girare Diventa un grandissimo pericolo E quindi è molto importante Secondo me attaccarsi E fargli scaricare il pallone E poi liberarsi Perché altrimenti Non aiuta per me I giocatori tecnici In questo tipo di situazioni Però per me Hanno fatto soltanto Una partita magari Un po' più opaca Delle altre Però sono giocatori validissimi Sia Frey che Pitt Hanno fatto una gran partita Abbiamo avuto tantissime occasioni Sia da una parte Che dall'altra Quindi sì Farei complimenti Ad entrambi i portieri Oltre a Frey Almeno a me È impressionato abbastanza Namu Che comunque È molto rapido È difficile stargli dietro È un bel giocatore E allora eccoci anche Con gli altri due ospiti Di giornata Pitt Baroni Che oggi è stato davvero strepitoso Ci ha salvato in più riprese Uno degli MVP di quest'oggi Assieme a Orlando Secondo il mio punto di vista Come hai visto la partita E quante volte Te la sei vista brutta Davanti alla porta Eh Tante tante Non sarei voluto stare al tuo posto Piccola premessa Vabbè ma Sono cose che devi contare Sicuramente Quando giochi in porta Poi sicuramente Di là abbiamo trovato Una squadra Che valeva veramente tanto Tutti i ragazzi giovani Che non hanno mai mollato Che hanno sempre continuato Ad essere molto pericolosi E fatti Tante veramente Azioni pericolose Che hanno creato Che hanno messo veramente In difficoltà O per il campo Anche per la palla Che si creano Questi rimpalli Che sono veramente Difficili da prevedere Comunque loro erano Sempre sul pallone Sempre rapaci E è stata veramente Una bella sfida A tenere sulla porta oggi Te come l'hai vista? Bepp Guardiola Per gli amici Bepp Ti faccio i complimenti Per la gestione del gruppo Te la lasciando La piccola nota stonata Che è sempre quella Che non metti il tuo bomber Però fatta questa premessa Direi che nelle rotazioni Sei stato molto bravo Visto da fuori Quindi sei anche un potenziale allenatore Ti chiedo cosa ne pensi Eh grazie Per quanto riguarda le rotazioni Io provo sempre A coinvolgere tutti Cercherò di non lasciarne Magari anche chi Vedo un po' più indietro Rispetto all'ipotetico titolare Di non lasciarlo fuori troppo In modo che non si raffredda Quindi quello Spero di averlo gestito bene Di aver fatto giocare tutti Più o meno Un buon minutaggio Per quanto meritano Sì è stata una bella partita Ma in questo torneo Mi sono piaciute per ora tutte Sono più stupiti meglio Che in pezzo Una delle ultime domande Che volevo farvi Secondo voi Visto questo girone Qual è stata la squadra Che vi ha impressionato di più? Partiamo da Pitt Loro Decisamente loro Meglio dell'Antomas Meglio dell'Antomas Secondo me L'Antomas L'ho affrontata tante volte Nel corso degli anni Si conoscono molto bene Comunque hanno degli elementi Veramente bravi Mi hanno impressionato Molto di più loro Sia perché a livello fisico Veramente loro sono un passo in più Ma comunque anche a livello qualitativo Hanno degli elementi Veramente validi E poi hanno anche un buon portiere Io rispondo assolutamente loro Bisogna vedere Se arriviamo terzi Perché non si sa mai L'Antomas Deve comunque vincere No perché comunque Loro sono stati messi in difficoltà Ha vinto solo 3 a 2 Dagli ultimi del girone Quindi mai dire mai Perché anche un pareggio Potrebbe portarci secondi Allora io vi ringrazio Adesso torniamo con Fabio e Fre Andiamo definitivamente in chiusura Allora ragazzi Noi vi ringraziamo Per aver visto questo video Fino alla fine Vi ricordiamo come sempre Di iscrivervi al canale Attivare la campanellina Lasciate mi piace Condividete il video Mi raccomando Seguite anche Fabio E tutti i ragazzi su Instagram Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao